faccio una cosa che ci siamo mamma raga ma qua perde qua mi perdo certamente e vabbè a visto che adesso dopo video ragazzi io mi dico una cosa guarda tutto spese ragazzi qui c'è la salite quindi posso ma qua non so qua c'è di più ragazzi esecutati mi sa di sfruttare adesso ragazzi perché qua ecco qua ecco esplode ragazzi no raga basta basta raga basta raga io basta vi saluto per quattro è tutto che tutto raga basta allora per questo è tutto la parte mia e la vostra 17 tutto ciao eccoci al prossimo ciao